Tre defibrillatori per altrettante scuole dell'area Prato Sud. Sono stati donati dalla pubblica assistenza all'avvenire insieme al circolo Arci Fiorello Bini di Tobbiana e Federcaccia. La consegna si è tenuta ieri, a beneficiarne le scuole Bruni di Casale, la primaria a Mannati e la scuola di infanzia di Tobbiana. La pubblica assistenza insieme ad altri partner è riuscita, come promesso nel mese di luglio, ad attivare presso le scuole di Tobbiana e di Casale uno strumento fondamentale salvavita per i grandi ma anche per i più piccoli. Infatti sono stati donati tre defibrillatori che verranno applicati in questo inizio anno scolastico presso le scuole sia di Casale sia i due istituti delle materne di Tobbiana e elementari sempre di Tobbiana. Ringrazio finitamente Gabriele Alberti e la pubblica assistenza per averci dato questa possibilità. La Peder Caccia e il gruppo Cinofilo da anni collaborano, non è la prima volta che donano un defibrillatore per un'opera come questa e credo che questo sia il futuro in una società civile che siano i gesti da fare nei confronti delle scuole dei bambini e di tutti che loro hanno bisogno. È un'importanza grande data questa volta all'infanzia, un'importanza che io sento particolarmente anche lavorando con i bambini da pedagogista, un'iniziativa che è stata resa possibile grazie ai nostri partner e questo è solo uno dei tanti progetti che coinvolgerà tra l'altro l'area di Casale. È un bel gesto d'attenzione per il mondo della scuola e noi ringraziamo il Circolo Arci di Tobbiana e Circolo Bini, ringraziamo la pubblica assistenza di Casale e Feder Caccia perché questa bella attenzione al mondo della scuola e all'esigenza dei bambini ci sembra da sottolineare come un fattore molto positivo.